Manca all'appello un reliquiario del XVII secolo in argento e rame che custodiva al suo interno delle reliquie di San Francesco d'Assisi. L'oggetto, con lavorazioni di pregevole fattura e che ha un valore stimato di circa 5.000 euro, si trovava nella piccola chiesa di Santa Maria di Gesù, adiacente all'ospedale Santissimo Salvatore a Mistretta. Non è stato trovato quando una settimana fa, prima della visita pastorale del Vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Patti, ha proceduto alla verifica degli oggetti custoditi all'interno della chiesa. Amarissima sorpresa, dunque, a cui è seguita la denuncia ai carabinieri della compagnia Mastratina da parte di Monsignor Michele Giordano, legale rappresentante della parrocchia. A quanto pare, l'ultima persona ad aver visto materialmente l'oggetto sacro sarebbe stato il vecchio sacrista circa due anni fa. Il reliquiario era posizionato all'interno della sacristia in un tabernacolo senza serratura, dunque eventuali malintenzionati potrebbero averlo sottratto senza difficoltà. La piccola chiesa però non viene aperta spesso al culto, se non in rare occasioni. Difficile quindi stabilire quando e come possa essere sparito. Al vaglio dei carabinieri di Mistretta, coordinati dal capitano Silvio Imperato, le varie ipotesi per stabilire se in effetti il reliquiario oggetto iscritto nel catalogo della soprintendenza dei beni culturali possa essere stato semplicemente spostato altrove oppure trafugato. Nella chiesa sembra non siano stati notati i segni di effrazione, ma intanto è scattata la segnalazione al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma e Palermo, sezione specializzata dell'arma che tratta il fenomeno del traffico illecito dei beni culturali. I dati acquisiti, in particolare le caratteristiche tecniche e la foto del reliquiario, sono stati inseriti in un database nazionale dei beni culturali illecitamente sottratti. Le informazioni vengono condivise a livello nazionale, ma anche incrociate con quelle di altre banche dati a livello internazionale, dove vengono segnalate cessioni sospette di oggetti antichi sul mercato nero o tramite e-commerce. Informata dell'accaduto anche la prefettura di Messina, proprietaria della chiesa di Santa Maria, immobile che fa parte del patrimonio del fondo edifici di culto.